Come da tradizione, anche quest'anno il sindaco di Pordenone ha inaugurato il primo giorno di scuola portando il saluto dell'amministrazione comunale a bambini e ragazzi di alcuni istituti scolastici. La prima tappa del vice-sindaco reggente Alberto Parigi è stata la nuovissima scuola secondaria di primo grado Giuseppe Lozzer, inaugurata alcuni giorni fa alla presenza di diverse centinaia di cittadini, a corsi per ammirare la funzionalità di un edificio tecnologicamente avanzato, dagli spazi ampi e accoglienti. A fare gli onori di casa, Vladimiro Giacomello, dirigente dell'Istituto Comprensivo Pordenone Torre. Ogni inizio di anno scolastico è particolarmente emozionante, questo lo è ancora di più. La scuola è nuova e quindi speriamo pronti per offrire a questi ragazzi tutto il supporto, tutto l'aiuto che possiamo dare loro. Buon inizio anno scolastico a tutti, che sia un anno scolastico di serenità, di gioia, ma anche di studio e di impegno. Come ogni anno noi facciamo un po' il giro delle scuole, la rotazione che abbiamo ogni anno. Quest'anno è inevitabile venire alla splendida Nuova Lozzer e voglio ringraziare tutti per la presenza all'inaugurazione. Oggi gireremo anche altre scuole, la Narvesa dove abbiamo sistemato il giardino e continueremo a sistemarlo nelle prossime settimane, sarà pronto tra poco. E poi la De Amici per fare in modo di augurare buon anno scolastico a tutte le scuole e in particolare a chi inizia, a chi fa la prima media, la prima superiore, la prima elementare. Perché è anche per loro un po' un giorno di ansia. Ecco, l'ansia non ci sia, ci sia lo studio, l'impegno appunto, ma anche la gioia di andare a scuola, di scoprire nuovi amici e di ritrovare i vecchi amici. La visita è continuata poi alla primaria Narvesa e alla De Amicis, dove oltre 130 bambini accompagnati dalle loro maestre hanno ricambiato la visita del vice sindaco reggente con la loro consueta simpatia ed entusiasmo.